Abbiamo deciso come amministrazione, in particolare come conferenza delle lette, che vede al suo interno tutte le donne elette nel 2014, quindi trasversalmente agli schieramenti politici, la necessità di promuovere più di un'iniziativa, e quindi non solo il 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e anche utilizzando delle strategie diverse da quelle che abitualmente si usano e risultavano poter funzionare. Abbiamo pensato in questa occasione di coinvolgere gli esercetti di Fano e le associazioni di categoria che si occupano in particolare di vendita di prodotti alimentari, in particolare pane, pasta, pasticceria. Perché? Perché sicuramente attraverso questa iniziativa, in cui loro per tre mesi utilizzeranno delle buste dove viene avvolto il prodotto che viene venduto, troveranno stampato appunto il logo di questa iniziativa, che è per troppe donne la violenza e pane quotidiano, con tutti i numeri e le informazioni necessarie per potersi rivolgere a chi ha bisogno di servizi preposti proprio a dare le prime informazioni. Ci sentiamo onorati come associazioni di categoria, io ma come tutti i miei colleghi, di aver aderito a questa iniziativa, a questo progetto così importante, perché noi vogliamo fare in modo che le donne possano chiedere un consiglio, un aiuto, che magari in un altro momento non lo farebbero e lì troveranno tutti i numeri di telefono che fanno parte del caso. Quindi noi vogliamo veramente ringraziare tutti, infatti domani sera proprio per questo presenteremo questa iniziativa al Teatro della Fortuna per presentare questa serata così importante, che sarà di poesia, di musica, quindi una serata diciamo abbastanza leggera, ma per portare un tema così importante, che è quello della violenza sulle donne. Ricordiamo a tutti che questa serata è completamente gratis, quindi tutta la cittadinanza può partecipare, quindi qualsiasi persona invitata a venire a teatro a partecipare a questa serata.